E' partita una richiesta di incontro urgente con il ministro delle imprese del Made in Italy Adolfo Urso in persona per affrontare la vertenza Sanac. Sono stati i sindacati a rivolgersi direttamente al governo all'indomani del fallimento del terzo tentativo di vendita dell'industria siderurgica specializzata nei frattari, che vede a massa il suo principale stabilimento produttivo. I commissari straordinari hanno comunicato lunedì sera il ritiro delle offerte da parte di Dalmia e RH Italia, le uniche due che si erano fatte avanti a novembre, la terza manifestazione di interesse. Una doccia fredda, dopo le tiepide speranze iniziali, per i circa 100 lavoratori apuani, che rischiano di vedere la chiusura definitiva di Sanac entro la fine di quest'anno. Per gli stabilimenti Liguria e Sardegna si parla addirittura di uno stop a fine marzo. Nei prossimi giorni sarà convocata un'assemblea dei lavoratori e saranno studiate iniziative anche a livello locale, ci spiega Umberto Faita, segretario FIOM CGL di Massacarrara. Se dal Ministero non ci saranno riscontri per convocare un tavolo a stretto giro, i sindacati sono pronti a iniziative di piazza a Roma. Nel resto solo il governo ormai può sbloccare la situazione. Riaprende i rubinetti di acciaierie d'Italia di Taranto, società per metà statale, primo cliente della Sanac, controllata a sua volta dallo Stato, alla quale deve ancora 20 milioni di euro. L'Italia sta investendo un miliardo e sette sulle acciaierie di Taranto. I benefici di questo sforzo economico devono ricadere su tutta la filiera, così ha commentato il deputato massese della Lega Andrea Barabotti.